E' la numero 35, iscritta all'ordine del giorno, presentata dal Consigliere Guarente su istituzione di un tavolo tecnico tra i comuni di Potenza, Pignola, Briola e Sasso di Castalda per investimenti in partnership. Prego Consigliere. Sì, grazie Presidente. Questa mozione, come le interrogazioni precedenti, oltre alla mia, che sono il primo firmatario, porta la firma del collega Fanelli e del collega Canizzaro. Come ben diceva, l'oggetto è l'istituzione di un tavolo tecnico tra i comuni di Potenza, Pignola, Briola e Sasso di Castalda per investimenti in partnership. Se possibile, le chiedo di invitare i colleghi a prestare un attimino di attenzione. Per cortesia, un po' di silenzio. Accomodiamoci e ascoltiamo il Consigliere. Grazie. I sottoscritti consiglieri con la presente intendono porre all'attenzione dell'amministrazione l'utilità che avrebbe l'istituzione di un tavolo tecnico tra i comuni di Potenza, Pignola, Briola e Sasso di Castalda, per concordare azioni mirate e coordinate da porre in essere insieme per il rilancio del turismo di montagna. Lo scopo è quello di individuare investimenti da realizzare con il programma Agenda Urbana, in partnership tra i vari comuni succitati, in modo da permettere a tutte le realtà di trarre giovamento dal rilancio turistico dell'area della sellata. Viviamo nel capoluogo di regione più alto d'Italia, la cui vocazione dovrebbe essere proprio quella di muovere e promuovere flussi economici basati sul turismo montano, estivo ed invernale. Se riuscissimo quindi a porre in essere una serie di investimenti finalizzati a rendere più appetibile, fruibile e collegata l'area della sellata, silenzia di impianti di neve artificiale, percorsi naturalistici, piste ciclabili, aumento dei collegamenti da e per potenza, ne trarrebbero un immediato beneficio tutti i comuni che sono invitate a partecipare all'azione di rilancio e ne conseguirebbero tangibili ed altrettanto immediati risvolti economici per quelle realtà imprenditoriali che operano nel settore. Come dicevo l'altra volta, questo argomento è stato oggetto di discussione per circa due anni nella quinta commissione presieduta dall'allora presidente Cutro e appunto vuole sollecitare l'amministrazione nell'istituzione di questo tavolo tecnico perché probabilmente mettendo attorno a un tavolo tutte le parti che possono essere interessate dal rilancio di quell'area e individuando, sfruttando l'agenda urbana degli investimenti mirati su quell'area, potrebbero trarre a ragionamento tutte le parti interessate. È ovvio, io facevo questo ragionamento in commissione, che la sellata non è un territorio montano che ricade nel nostro comune, ma è ovvio che se noi riusciamo a portare dei flussi di persone su quell'area, queste stesse persone, quegli stessi utenti a Potenza verrebbero a dormire, a Potenza verrebbero a pranzo e a cena e quindi muoverebbero dei flussi economici nella nostra città. Quindi probabilmente se il comune di Potenza riuscisse ad investire sui collegamenti per quell'area oppure riuscisse anche attraverso un'interlocuzione con la regione ad individuare degli investimenti per gli impianti di neve artificiale seppur molto difficili da realizzare, potremmo rendere realmente appetibile quella che rappresenta sicuramente una grande risorsa per il nostro turismo. Grazie. Grazie a lei consiglieri. A questo punto apriamo la discussione. Vi ricordo che sulle mozioni il dibattito può essere effettuato con interventi di un consigliere per ogni gruppo consigliare della durata massima di 5 minuti. Ci sono prenotazioni? Vi pregherei di utilizzare il braccio. Prego consigliere Calella, poi consigliere Iudicello, poi per ora basta. Sì, solo per dare il mio contributo a questa proposta, che sicuramente è una proposta lungimirante, purtroppo ci è voluto tanto tempo per riuscire a discuterne in consiglio. Io posso portare la mia esperienza di allievo maestro di sci, che ho svolto per quasi dieci anni presso il Monte Pierfavone, e purtroppo sono testimone di tutta una serie infinita di carenze che riguardano la gestione di questa montagna. Ma il mio intervento vuole semplicemente sollecitare il sindaco su una riflessione. purtroppo la gestione di una montagna, la gestione di impianti di risalita, di attrattori turistici, poggiata su comuni così piccoli come quelli che sono proprietari del terreno, cioè dei confini e delle montagne, quindi nel caso specifico il comune di Sasso di Castalda del comune di Abriola, purtroppo non dà la possibilità a questi luoghi meravigliosi di lanciarsi come dovrebbero nel mondo del turismo. Per questo la riflessione che fa il consigliere Guarente è molto importante, sindaco, perché solo con l'appoggio del capoluogo di regione e con un tavolo che mette insieme questi piccoli comuni, perché siamo coscienti del fatto che siamo in difficoltà noi economicamente, che siamo il capoluogo di regione, immaginiamo la gestione economica di comuni così piccoli come quello di Abriola e di Sasso di Castalda. Però non possiamo dimenticare la grande vocazione montuosa che ha la nostra città e che ha il nostro territorio e non dobbiamo assolutamente sottovalutare, così come finalmente stiamo riscoprendo una vocazione turistica della nostra città, non dobbiamo assolutamente dimenticare quella che è la vocazione turistica del nostro territorio, perché le montagne, che sia Rifreddo o che sia Pierfaone, sono un sogno per 6 milioni di pugliesi che sono ai nostri confini, che addirittura per loro solo vedere una salita e una discesa è già qualcosa di attrattivo. Vedere dei boschi meravigliosi, vedere la neve diventa un attrattore incredibile. Purtroppo si scontrano contro i limiti incredibili della gestione turistica di questi luoghi. Io attraverso il consigliere regionale dei Fratelli d'Italia più volte ho sollecitato il presidente della regione attuale, quello precedente di Filippo, a considerare di finanziare l'innevamento artificiale delle montagne, perché per quanto riguarda la gestione del turismo invernale, sostanzialmente è come se oggi ci fosse una persona che esce di casa e va a lavoro in carrozza. Cioè nel 2016 non avere gli impianti di innevamento artificiale è come andare a lavorare con la carrozza, sostanzialmente. Questa è la realtà. Ora, purtroppo, il nostro comune sta facendo qualche passo avanti nella gestione turistica e nella consapevolezza di essere visitati da turisti. Queste montagne e questi comuni hanno troppe poche risorse. Insieme si dovrebbe andare dal presidente della regione a fargli capire quanto invece può essere attrattiva, in considerazione del fatto che si avvicina Matera... Ragazzi, purtroppo avete un tono di voce abbastanza importante. Un po' di silenzio, per piacere consigliere le ricordi 5 minuti, grazie. Sì, quanti ne sono passati? 4. Eh, credo che sono passati 4 e mezzo. Ok. Purtroppo, sindaco, pochissimi cittadini di potenza vivono la montagna, pochissimi cittadini di potenza vivono i boschi, ma sappiate che i nostri boschi e le montagne limitrofe sono invase da persone che vengono dalla campagna della Puglia, invase centinaia e centinaia di persone. È una risorsa incredibile che non viene sfruttata. Quindi faccio i complimenti al consigliere Guarente per questa proposta, ma cerco di sensibilizzare voi su quanto si possa fare con questa risorsa per creare un tavolo e per andare dal presidente della regione a iniziare a programmare il turismo su queste montagne. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Cello, prego. Presidente, la mia è solo un intervento per una precisazione. Mi risulta che il tavolo sia già stato istituito e che i comuni citati dal consigliere Guarente siano stati inglobati in un'ottica ancora più grande con altri comuni. Quindi credo che sia, non dando merito al consigliere Guarente, ma credo che la mozione sia superata da quello che l'iter amministrativo ha già preso corso in quella direzione, anzi, in una direzione più ampia di quella indicata dal consigliere Guarente. Tutto qui. Altre prenotazioni? Consigliere Fanelli, prego. La scheda, purtroppo. Grazie, presidente. No, io non volevo intervenire perché chiaramente sono favorevole avendo sottoscritto la mozione. Solo che l'intervento di Giudicello volevo replicare, dicendo, collega Giudicello, se già si è avviato un tavolo, bene. Però mi risulta, quindi diciamo che non ci sono certezze. Però sicuramente dimostrare che l'intero consiglio comunale di Potenza, la massima sede del capologo di Regione, sia favorevole a questo tipo di proposta, a mio avviso è importante. Grazie. Grazie. Ci sono altre prenotazioni? Consigliere Giannizzari, prego. Sì, mi verrebbe da fare domanda al consigliere Guarente. Quanto tempo fa hai presentato la mozione? Giusto per capire? Perfetto. 25 febbraio 2016, quindi se il segretario cittadino conferma che c'è stato un tavolo tecnico aperto, saresti stato, quantomeno, dovuto essere stato avvisato per quanto riguarda questo tipo di lavoro. Quindi venire a conoscenza in consiglio, mi sembra, a quanto... Altri interventi? Nessuno? Vuole prendere la parola il sindaco, l'assessore di riferimento? Sulla mozione? Noi siamo da... Non è che siamo con grazie. Prego. Di Galella, io penso che il tema che voi avete posto è un tema vero, nel senso che la montagna che era tanto promettente negli anni 60-70 sembrava che potesse diventare un motore di sviluppo della nostra regione, poi si è arenata e noi abbiamo visto, assistito a una serie di difficoltà degli operatori turistici di quelle aree che non sono riusciti a ottenere quello che avrebbero voluto fare con gli investimenti che hanno fatto perché in qualche modo non sono stati adeguatamente supportati perché le infrastrutture non soltanto ciistiche, ma quelle viarie, l'accesso al Pierfaone è un accesso complesso è una strada che presenta grandi smottamenti in alcuni punti è proprio franata e quindi e di fatto non gode di buona salute peraltro senza trascurare il fatto che quello è un'asse importante dal punto di vista turistico anche perché connette il nostro territorio con la Valle dell'Agri ed è una strada vorrei dire meravigliosa da percorrere in primavera ed estate per raggiungere Marsico Nuovo e quindi io convengo con voi sul fatto che bisogna avere una profonda attenzione per un'area che ha una vocazione turistica vera ma che purtroppo una vocazione turistica che non è stata di fatto mai coltivata basta guardare le condizioni nelle quali versa lo chalet della sellata sono condizioni che lo chalet era stato ristrutturato con la legge del terremoto la 219 aveva avuto anche importanti finanziamenti ma oggi mi pare che sia addirittura chiuso perché non ha utenza di fatto sono riusciti a sopravvivere con l'utenza lavorativa del petrolio perché hanno ospitato un po' di tecnici del petrolio però di fatto questo sta a significare che sono territori nei quali bisognerebbe credere e investire certo io condivido l'idea di metterci a lavorare insieme perché guardate io penso che uno dei segreti che nella nostra regione è quello di unire un po' senza aspettare tutto che venga dall'alto dalla mamma regione ma che i sindaci si mettano a dialogare insieme ed eventuali istanze e portarli insieme alla regione per poter sviluppare i nostri territori d'altra parte sono d'accordo con Guarente sul fatto che quella non è la montagna né di Abriola né di Pignola è la montagna di tutti noi e io ho sempre considerato che è la montagna di potenza quindi è la nostra montagna quando uno vuole andare in montagna deve andare alla sellata quindi sono d'accordo io ad avviare un tavolo di dialogo serrato con i sindaci peraltro devo dire che col sindaco di Abriola abbiamo già avviato una proficua collaborazione su altri assi di collaborazione quindi sono d'accordo con sposo questa mozione è chiaro come diceva giustamente Giampiero Iodicello ci sono anche altri comuni che si stanno unendo in questa in questa attività probabilmente Giampiero saranno comuni della Val d'Agri e questo potrebbe essere un modo per ricucire un poco i nostri territori con altri territori quindi sono d'accordo sposo questa mozione prego sì volevo dire al collega Iodicello lo scopo è quello di mettere attorno questi quattro comuni perché sono quelli che gravitano su quell'area quindi sono quelli che a vario titolo possono essere interessati e quando parlo di investimenti io immagino anche un attrattore solo un secondo solo un secondo immagino un attrattore come quello che da poco è stato creato sulle Alpi su cui hanno fatto delle vere e proprie montagne russe che percorrono un tratto di bosco ora noi abbiamo una regione che si sta distinguendo in termini di attrattori e perché non pensare di crearne anche uno nelle nostre immediate vicinanze in modo tale da consentire agli utenti di pernottare di venire a potenza per sfruttare quell'attrattore e non di venire a potenza per andare in un altro comune a sfruttare gli attrattori di quell'altro comune grazie grazie a lei altri interventi nessuno allora passiamo alle dichiarazioni di voto se ci sono richieste di dichiarazioni di voto prego consigliere di dicello naturalmente per la dichiarazione di voto no 30 secondi sì per la dichiarazione di voto annuncio il mio voto contrario non perché la la mozione sia sbagliata ma perché per me è limitativa avrei ammesso che non si sia già in regione avviato un ragionamento con tutti i comuni come a me risulta essere però a prescindere da questo una mozione che limita solo i quattro comuni un raccordo su quell'area per quanto mi riguarda è limitativa grazie prego consigliere Caporaso vado perfetto allora colgo cogliamo come gruppo il senso assolutamente positivo della proposta che arriva dal consigliere Guarente ma voteremo votiamo facciamo voto contrario rispetto alla mozione semplicemente perché riteniamo che sia assolutamente necessario ragionare in una logica territoriale più articolata e più vasta che abbia un senso maggiore e che non affronti soltanto un tema che è un tema assolutamente importante come quello della montagna ma che affronti la logica dell'attrazione dei territori secondo delle chiavi strategiche che tengono conto di tutte le vocazioni dei territori grazie grazie altre dichiarazioni di voto Galella prego sì io rimango sbalordito purtroppo da questo ragionamento assurdo cioè siccome sono quattro comuni che gravitano su quella montagna si vota contro perché non ci sono altri 25 comuni cioè mi sembra un ragionamento veramente strano vorrei però aggiungere che se il tavolo c'è signori consiglieri ma che cosa ha prodotto sto tavolo che quella montagna sta morendo che c'ha c'ha un impianto di risalita a sasso scusate c'ha un impianto di risalita a sasso di Castalda che arriva la pista non arriva dove riparte l'impianto cioè bisogna farsi 100 metri a piedi con gli sci sopra per andare a piedi per l'impianto cioè se sto tavolo c'è è fallito quindi forse sarebbe il caso di votare a favore di un nuovo tavolo con i comuni che gravitano su quella montagna perché evidentemente in questa regione si gli piace allargare il tavolo a molti per non fare niente così si elimina il problema quindi fatta questa amarissima considerazione ovviamente dichiaro il voto favorevole dei fratelli d'Italia grazie altre dichiarazioni di voto Guarente prego c'è sì grazie presidente sì un secondo organizzo i pensieri perché sono tanti allora innanzitutto veramente mi fa sorridere constatare il voto contrario sia del partito democratico che dei socialisti democratici per due motivi questa mozione è stata oggetto di discussione in commissione per due anni e mi premurerò di recuperare tutti i verbali tutti i verbali che riportano anche gli interventi degli autorevoli colleghi che oggi hanno deciso di esprimere un voto contrario e che non hanno mai avanzato una proposta di allargamento peraltro mi fa specie come il gruppo dei socialisti democratici esprima un voto contrario rispetto ad una mozione ampiamente condivisa dalla presidente della commissione che è dei socialisti democratici quindi delle due l'una o non avete discusso o due anni avete dormito in commissione cosa probabile a questo punto oppure semplicemente state anteponendo un interesse politico a un interesse collettivo e io in questo caso se così fosse veramente mi vergognerei di sedere sullo scranno in cui state sedendo in questo momento ovviamente il mio voto è favorevole grazie grazie altre dichiarazioni di voto consiglio Giannizzi prego sì presidente io gradirei che per le prossime i prossimi diciamo ordini del giorno di questo consiglio quando un consigliere mette in votazione una mozione presenta una mozione e che la mozione praticamente ha un intervallo di tempo così esteso da come l'ha presentato il consigliere laddove ci sono si iniziano dei lavori di discussione all'interno dell'aggiunto all'interno dell'amministrazione gradiremmo essere messi a conoscenza per diciamo regolamentare ma anche per rendere diciamo efficiente la mozione stessa perché altrimenti se noi presentiamo una mozione e siamo all'oscuro di un certo tipo di ragionamento che viene fatto all'interno dell'amministrazione il nostro apporto è realmente inutile quindi gradire almeno di essere messi a conoscenza praticamente se ci sono tavoli tecnici in essere grazie grazie altre dichiarazioni di voto consigliere carretta sì è in dissenso dal suo capogruppo sì in parziale dissenso va beh presidente diciamo solo per come dire siccome mi sembra una mi sembra una discussione come dire un po' speciosa in quanto penso che l'intento del consigliere Guarente sia un intento positivo quindi se la questione lo dico al collega Guarente fosse esclusivamente quella di allargare l'ambito territoriale dei comuni da coinvolgere per un fatto diciamo sia di strategia territoriale ma anche di risorse economiche e di energie fisiche da mettere in campo io lo invito come dire a parziale modifica della proposta ad allargare la platea dei comuni e come dire io annuncio in questa direzione il mio voto favore grazie altre dichiarazioni di voto prego non l'ho capito scusa ah prego prego in merito all'intervento che ha fatto il consigliere Giannizzi vorrei dire questo che non esiste nessun tavolo su questo tema proprio nessun tavolo di discussione niente quindi noi stiamo discutendo qui oggi per la prima volta allora ci sono altre dichiarazioni di voto possiamo fare l'appello e passare alla votazione ma Fanelli non l'aveva già parlato prego o mi sono distratto io presidente però qua mi sembra un po' una discussione paradossale vorrei capire una cosa se c'è questo tavolo già istituito ma il comune di potenza ne ha conoscenze o meno ha detto che non c'è e quindi di cosa stiamo discutendo cioè non era rivolta a lei chiaramente sindaco era per dire se c'è questo tavolo penso che il comune di potenza ne deve essere consapevole detto questo io come firmatario della mozione colgo positivamente la proposta del collega Carretta non ci sta un motivo stativo perché non si possa allargare questo tavolo se questo è ciò che limita un voto favorevole da parte di alcune forze politiche non ci sono problemi quindi annuncio un voto favorevole presidente altra dichiarazione di voto no passiamo all'appello prego di luca presente galella presente presente giuzio assente giustificato morlino presente vigilante presente Petrone presente giudicello presente nardiello assente telesca assente Carretta presente lovallo assente sileo presente plasi assente andretta assente meccariello assente nole assente sagarese assente pace assente giustificato peserini presente caporasso presente campagna presente flore presente calò presente sofrano presente scarano assente summa assente rutunno presente canizzaro presente guarente presente panelli presente giannizzari presente picerno assente giustificato fellone assente 19 presenti seduta valida allora procediamo alla votazione voti favorevoli scusate voti contrari 1 2 3 astenuti 2 petrone e morlino è approvata la di chiamata